Buongiorno a tutti, buon lunedì. Peccato per Arnaldi e Cobolli, gli ultimi due italiani che si giocavano il terzo turno. Arnaldi, il Ligure perde contro Thompson in 3-7. Peccato errori gratuiti 49 che gli hanno permesso di dare un vantaggio netto a Thompson. Questo risultato elimina il Ligure come senza sfigurare i cecobolli con Medvejeva a testa alta. Erano gli ultimi due italiani oltre a Sinner e Paolini che si giocavano al posto agli ottavi. Oggi invece ci saranno gli ottavi di finale in campo Sinner e in campo Jasmine. Noi contiamo su di loro, contiamo che possano ottenere un grandissimo risultato in questi US Open. Per Sinner per mantenere il posto numero 1 al mondo, per allungare il numero 1 al mondo nella classifica e per Paolini per poter andare ancora più in alto del numero 5 al mondo. Comunque grandi azzurri, ottimi risultati, complimenti al lavoro del tennis italiano. Vi ringrazio sempre per seguirmi. Vi invito a cliccare in basso a destra, iscrizione gratuita. Potrete dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!